Ti ricordi? La partita con l'assassino era appena iniziata. Ci sono profili per ogni giocatore. Il mutiglioso, l'aggressivo, il raffinato. A capo della squadra c'era lui. Non pensare alla prossima mossa, ma a tre mosse avanti. Premietti insieme i pezzi. Sono oggetti. Pezzi degli scacchi. Il movimento sarebbe religioso. Sesso e potere. Sordine, ossessivo, concursivo. Potrebbe essere uno studente. Stiamo solo perdendo tempo. Va bene, basta. Non perdere la seconda stagione di Criminal Minds. Domani alle 21 su Fox Crime.